Si sono state montate le travi che sostengono la nuova struttura per la nuova palestra scolastica. Le parti strutturali sono praticamente finite, si sta cominciando a predisporre per il discorso degli impianti, mancano ancora le coperture e la palestra e poi ovviamente tutte le finiture che saranno un lavoro ancora importante, però diciamo che la parte strutturale, il grosso del lavoro è stato fatto, ci sarà ancora un po' di tempo da perdere sulle finiture, da impegnare sulle finiture, però diciamo che tutto stanno avanti senza inghippi e questa è una bella soddisfazione. Possiamo azzardare dei tempi di messa in opera di questa struttura? Allora, io non mi sbilancio troppo per tante ragioni, anche perché comunque lavoro da fare ancora è tanto. Spereremmo entro fine anno solare almeno di aprire la palestra, poi il discorso sulla scuola è un po' più complicato, quello interviene anche un tema poi di arredamento, di struttura, insomma sicuramente andremo a regime con l'anno scolastico 23-24. Stiamo vedendo la fine di un tunnel lungo qualche anno, insomma tutti dicevano che era una mission impossible, invece con la buona volontà, con l'impegno di tutti, dell'amministrazione, dei funzionari, della ditta che sta lavorando egregiamente, i risultati si portano a casa. Questo progetto che si realizza è una scommessa per la maggioranza perché era uno dei punti pregnanti del vostro programma elettorale? Sì, è stato un processo abbastanza complicato nel senso che ci siamo trovati a dover decidere e mettere in campo tutte le nostre energie per poter riuscire a fare questo impianto che secondo noi è un fiore all'occhiello di questa comunità. Assessore Rinaldi, siamo all'interno di quella che diventerà la palestra della scuola, però una struttura che potrebbe avere anche una finalità di protezione civile se casomai dovessero esserci emergenze a Crevola d'Ossola. Sì, di fatti noi è una cosa che siamo subito partiti anche con quell'idea lì, perché il posto strategico come protezione civile, un affare così sarà senz'altro all'avanguardia. Io lo ritengo un gioiello che è un po' aspettato dalla cittadinanza crevolese.